Carissima Elecasi, siamo qua per una nuova puntata di Buono Sapersi e io inizierei con una mia esperienza personale. Sarà una cosa ricorrente. Sì, ma sono storie di vita vera, ci sta. Potrei parlarti per ore e ore di quando una mia cara amica credulona ha preso magnesio e dopo due giorni lo ha smesso perché era convinta di averne già avuto tutti i benefici. Oppure potrei raccontarti di quando mi sono spaventata, convinta di essermi intossicata per aver assunto troppi integratori diversi tutti assieme. Sì, mi piace questo. Oppure potrei semplicemente farti vedere lo scontrino della mia parafarmacia per farti capire quanti soldi costantemente io spendo da anni. E mi sa che non sei l'unica. No, quindi ogni puntata sai cosa faremo? La faremo iniziare così. Elena, aiuto! Mi piace. Il mondo dell'alimentazione è una vera e propria giungla. Diete con copyright, superfood, regimi alimentari per vivere cent'anni. Beh, è il momento di fare un po' di chiarezza. Io sono Elena Casiraghi, esperta in nutrizione. Io sono Alessandra Patitucci, sportiva della Domenica. E questo è Buono Sapersi. Guida consapevole, ma soprattutto semplice per un sano stile di vita. Cara Ele, da che io ho memoria, ho sempre fatto affidamento su sugli integratori. Quando ero piccolina, per problemi di pressione bassa, i miei mi davano potassio e magnesio. Crescendo e guardando le influencer, poi il collagene, l'acido ialluronico nelle creme. E poi il mirtillo e il dimannose per le vie urinarie. E dopodiché gli Omega 3, dopo averti incontrata, aver iniziato a fare Training Center insieme a te e Linus, praticamente sono diventata come Djokovic, che è dipendente completamente dalla sua borraccia magica. Dalla borraccia magico, dalla borraccia di Gil di Agassi, che non so se hai letto o pene il libro. Lui era dipendente da questa borraccia con delle famose vitamine, chissà. Direi però per iniziare questa puntata e di ascoltarci la nostra infarinatura per capire l'argomento di cui parleremo oggi. Vai! Gli integratori alimentari sono definiti dal Ministero della Salute come, leggo, prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive. Il regolamento dice proprio integrare la comune dieta, quindi sono prodotti destinati ad aggiungersi alla nostra normale alimentazione, non certo a sostituirla. Probiotici, vitamine, aminoacidi, ma anche ferro, sali minerali, collagene. Tutto si può trovare in farmacia e anche online, sotto forma di capsule, compresse, polveri, gel e flaconcini. Secondo le ricerche di mercato, negli ultimi dieci anni gli italiani hanno aumentato del 60% gli acquisti di integratori, passando da 125 milioni di confezioni acquistate nel 2013 a 200 milioni nel 2023. Questo perché sempre più persone sono convinte che gli integratori possano aiutarle a conservare o raggiungere un sano stile di vita. Ma è davvero così? Sì. Questa volta il tema mi è abbastanza chiaro. I dubbi che mi sembrano più condivisi però fra le persone ruotano attorno a due domande. Gli integratori funzionano e servono. Questo è quello che mi sembra di riscontrare di più. Quindi ma perché io dovrei integrare o comunque quando dovrei e potrei farlo? Allora voglio chiarire subito un punto perché integrare l'alimentazione potrebbe essere un'opportunità quando ad esempio vi sono delle carenze o quando c'è un aumentato fabbisogno di o un macronutriente pensa ad esempio alle proteine oppure un micronutriente come ad esempio i minerali, potassio e magnesio di cui hai parlato tu, oppure le vitamine. Proprio perché abbiamo parlato di proteine pensa a una persona che va in palestra e vuole aumentare la massa muscolare che ricorre appunto alle polveri di proteine. Su questo noi abbiamo fatto una meravigliosa puntata che vi consigliamo di recuperare, giusto? Esatto. Oppure ti faccio un altro esempio. Se mangiamo fuori casa, quindi vedi alla voce primi, panini, toast, insomma un po' la vita comune di tutti noi, può accadere che comunque l'alimentazione sia povera soprattutto in vegetali che sono fonte di vitamine e minerali. Pensa alle verdure, ovviamente se mangi un panino o se mangi di fretta pranzo ti perdi il piatto di verdure che magari recuperi a cena o comunque mangi molti meno di questi alimenti di origine vegetale che contengono queste sostanze. Ecco quindi che gli integratori di vitamine e eventualmente di minerali ci possono tornare comunque molto utili. Quindi il miglior metodo in assoluto per rimanere integrati è avere un'alimentazione bilanciata. Esatto. La prima cosa che dovremmo garantirci è sempre un'alimentazione di qualità, cioè bilanciata nei nutrienti. Quindi che soddisfi il fabbisogno quotidiano innanzitutto di carboidrati, proteine e grassi, quindi di macronutrienti ma anche di micronutrienti. Quindi le vitamine, i minerali, i polifenoli. Però a volte, come abbiamo visto, non funziona. No, non è così facile. Quindi io direi di iniziare con un enorme e bellissimo elenco di integratori, i più diffusi ovviamente. Partiamo dalle proteine. Ok. Allora, dici proteine e pensi un po' subito a chi va in palestra e fa pesi. È ovvio, il parallelo è subito facile. Partiamo da qui. Dopo un allenamento con i pesi, indipendentemente che tu voglia aumentare il volume oppure che tu voglia aumentare la forza senza diventare in pratica grosso, devi comunque assumere circa 20 grammi di proteine. Soprattutto devi farlo quanto prima rispetto alla fine dell'allenamento, perché questo effetto dell'allenamento sia efficace. Quindi nel giro di 30-60 minuti, grosso modo, entro un'ora dalla fine dell'allenamento. Ok. Quindi se ci sediamo a tavola nell'arco di tempo appunto di un'ora, soddisfiamo questa richiesta, perché comunque nel piatto metteremo un alimento fonte di proteine di origine animale o vegetale, quello sta a noi, ma comunque metteremo quella fonte di nutriente. Ma se tra la fine della palestra e il passo successivo passa diverso tempo, come facciamo a soddisfare questa richiesta di muscoli per attivare, quindi cliccare su on, sull'effetto allenante? Ecco allora che le proteine sotto forma di polveri da sciogliere in acqua, eventualmente in altri liquidi come ad esempio i latti o altri drink, oppure anche le barrette, possono essere comunque un valido supporto per soddisfare questa richiesta e rendere comunque attivo il nostro allenamento. In realtà però lo sono anche fuori dallo sport nella vita di tutti i giorni, penso per esempio alla prima colazione. La prima colazione. Parleremo anche di questo, però alzi la mano chi riesce davvero a soddisfare la quantità di proteine nella prima colazione. È un lavoro, è qualcosa di raro. Infatti perché noi abbiamo capito nella puntata, almeno io ho capito nella puntata delle proteine, che il peso delle proteine non equivale al peso dell'alimento, giusto? Assolutamente, è proprio così. Ok, e quindi in teoria dovremmo riempirci la pancia. Io se devo dire la verità, 500 grammi di yogurt sarei in grado di mangiarli. Poi so che è una cosa strana, ma ce la farei tranquillamente, la mattina ho una fame. Ma sicuramente anche molti di più, oppure pensa a quella quantità di proteine da assumere subito dopo alla palestra, o comunque il lavoro di forza, è dal latte. Il latte dovremmo assumere almeno 600 millilitri, che comunque è una quantità importante. Lo so, tu stai sorridendo, ce la potremmo fare. Però il punto qual è? Che assumeremo anche altri nutrienti che in realtà non vogliamo assumere, come ad esempio un'abbondante quantità di grassi, o comunque un eccesso anche di lattosio, quindi lo zucchero del latte, che ad alcune persone potrebbe comunque infastidire. Quindi capisci che con l'ausilio delle proteine in polvere, eventuali barrette, oppure frollini conna che hanno all'interno delle farine ricche in proteine, potremmo invece assumere 200 millilitri di latte, quindi anche meno della metà che ti suggerivo prima, e aggiungere un misurino di proteine in polvere. In questa maniera riusciamo a soddisfare quella che è la nostra richiesta di questo nutriente, cioè delle proteine, ma senza eccedere con i volumi di cibo. Ok, quindi allora, a costo di passare però per l'ignorante, che in realtà un pochino lo so, non sono preparata quanto te, abbiamo parlato di proteine in polvere, ok, questo l'abbiamo capito, ma gli amminoacidi invece, cosa sono? A cosa servono? Come si usano? C'entrano con le proteine? Sorrido perché questa è una domanda evergreen, un po' di DJ Training Center, c'è sempre la domanda dell'ascoltatore che ci chiede, appunto, che cosa sono gli amminoacidi? E allora rimando questo ascoltatore, o comunque tutti quanti noi, alla puntata dove abbiamo parlato di proteine, in cui ho fatto capire che la proteina è come un treno, fatta da 20 vagoni. Bellissimo. Bene, questi vagoni, questi singoli vagoni, sono i singoli amminoacidi, quindi per costruire una proteina, ci vogliono 20 amminoacidi. Su 20 amminoacidi, 8 sono definiti essenziali, significa che il corpo non è in grado di produrli da sé, deve necessariamente assumerli dall'alimentazione o sua eventuale integrazione. E di questi 8, 3 sono chiamati ramificati, o anche detti BCAA, insomma, quelle sigle che a Linus non piacciono tantissimo. E sono molto utili soprattutto agli sportivi, proprio perché danno il segnale al muscolo di crescere, frenando la sua degradazione. Quindi quando sono utili? Dopo un allenamento molto intenso oppure prolungato, dove il muscolo in realtà si sta un po' degradando, perché è sotto fatica, e noi invece dobbiamo aiutarlo a ricostruirsi, quindi a recuperare. Ma e come vanno assunti però gli amminoacidi? Allora, per semplificare, perché poi ci sono ovviamente casi personali e via dicendo, possono essere assunti subito dopo l'attività sportiva. Se a breve mi siedo a tavola e nel piatto mi garantisco un alimento fonte di proteine, non ci servono. Se invece dopo allenamento assumo già delle proteine in polvere, ricordatevi che questi contengono già gli amminoacidi, quindi non devo integrarli. Il consiglio è soprattutto quando ho un'alimentazione di origine vegetale, perché è difficile trovare i BCA, quindi questi tre amminoacidi importantissimi, e allora in questo caso possono essere molto utili, integrati, proprio per completare quella che è la richiesta di questi vagoncini. Tema proteine e amminoacidi andato. Passiamo alle vitamine. Tra gli integratori più diffusi ci sono i multivitaminici, da A alla Z. Sì. Allora, qui i professionisti del mondo della salute si dividono un po', nel senso che ci sono biologi nutrizionisti che ne sottolineano le virtù, definendoli come efficaci e utili. E poi ci sono dei medici che invece dicono che servono a poco e preferiscono agire scegliendo le singole vitamine. Ma Ale, qual è il nostro obiettivo? Fare chiarezza! Allora, eccoci qua. Con la E aperta! Quindi, l'utilizzo degli integratori multivitaminici pare sia vantaggioso per i soggetti che hanno, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, un'accertata carenza di vitamine. Quindi, pensa ad esempio a chi si nutre male, mangiando poco, come per esempio gli anziani, oppure pochi vegetali, quindi in genere poca verdura fresca, ovviamente, e poca frutta. Oppure sono utili per chi ha un aumentato fabbisogno di vitamine. Per il resto della popolazione l'utilità in realtà non appare così certa, secondo diversi studi scientifici. Dunque, non dobbiamo pensarli in un'ottica di prevenzione, perché sai, è molto facile all'inizio dell'inverno dire prendo il multivitaminico, così mi sento a posto con la coscienza che sto facendo qualcosa per proteggermi dall'influenza. E invece, scopriremo che non è così. Direi di passare alla vitamina C. che ovviamente da non esperta credo di poter assimilare da limoni e arance. Non so se sia corretto o meno. È corretto invece, Ale. Sì, sì, è proprio così. Però ricordati che non solo gli agrumi, quindi la famiglia dei limoni, mandarini, arance, contiene vitamina C. Ci sono anche altri vegetali che li contengono. Ad esempio i kiwi. I kiwi sono molto ricchi di vitamina C, quindi uno al giorno può offrire il fabbisogno giornaliero di vitamina C. È una scoperta incredibile. Io da domani un kiwi al giorno e il mio fabbisogno è a posto. Eh sì, abbastanza. A meno che tu non faccia sport in maniera intensa, abbia un fabbisogno aumentato, ma soprattutto quelli gialli, quindi quelli anche più dolcini, sembrano essere davvero più ricchi. Ci sono poi anche altri alimenti che la contengono, come ad esempio i broccoli, cavoletti di Bruxelles. Unico inconveniente che, ovviamente non li mangiamo crudi, quindi cucinandoli che cosa accade? Che calore va a degradare questa vitamina che è molto delicata? Quindi il rischio è di trovarne davvero una più piccola percentuale una volta che li mettiamo nel piatto e li consumiamo. Però voglio sfatare anche questo mito, perché noi pensiamo subito alla vitamina C come una vitamina che previene il raffreddore. Insomma, quanti di noi lo pensano? E non è così, perché non previene il raffreddore, ma ha una buona notizia, perché in realtà aiuta a risolverlo. Infatti la vitamina C ha questa attività molto forte di risolvere le infezioni del nostro organismo. Quindi integrare vitamina C quando stiamo bene non è utile, ma al contrario, quando non stiamo bene potrebbe essere invece molto utile per favorire ovviamente la risoluzione di un'infiammazione o comunque un'infezione. Ci sono altri casi dove è utile integrare la vitamina C? Assolutamente sì, ad esempio quando integriamo il ferro, perché il nostro medico ha appunto conclamato una carenza di questo minerale nel nostro organismo e aiuta proprio ad assorbire il ferro a livello intestinale. Quindi fa sì che possiamo assorbire molto meglio questo minerale quando o lo assumiamo dall'alimentazione, e adesso ti faccio alcuni esempi, oppure quando appunto il medico ci ha prescritto una sua integrazione. Quindi quando mangiamo alimenti molto ricchi di ferro, come ad esempio, beh va da sé, è molto facile con le carni rosse, quindi ad esempio la bresaola, assumiamo insieme magari una spermuta di una sola arancia con magari per abbassare l'indice glicemico anche dei limoni, proprio perché i limoni contengono molto meno zucchero. Oppure spruzziamo del limone direttamente sulla bresaola stessa, che è la cosa molto più semplice. Quindi capisci che aiuta ad assorbire proprio questo minerale. Quando può essere integrato? In questa situazione se non abbiamo a disposizione degli agrumi da spremere oppure i kiwi di cui ti parlavo prima, magari una compressa invece di vitamina C ci può aiutare ad assorbire meglio questo minerale. La vitamina C è fondamentale anche perché è una sostanza che serve al corpo per produrre il collagene di cui parleremo dopo. Dunque è fondamentale per le nostre articolazioni. Bene, direi che sulla vitamina C, ora sono ben preparata, passerei alla vitamina D. Io la sto prendendo in questo periodo dopo aver fatto degli esami del sangue che ne indicavano una carenza. Brava Ale, perché la vitamina D è soprannominata la vitamina del sole perché viene prodotta dalla pelle quando ci esponiamo ai raggi UV, però ovviamente a pelle nuda. Infatti una cosa che mi avevi raccontato tu è che per assorbirla meglio bisogna prendere il sole con braccia e gambe scoperte. È una cosa incredibile. Esatto, circa 15-20 minuti al giorno. Però sai quando è che abbiamo tempo durante la settimana e soprattutto qui nel nord Italia quando è che abbiamo sole? Esatto. In gennaio, febbraio. Quindi capisci che gran parte della popolazione ne potrebbe essere con ogni probabilità comunque carente. Il suggerimento è quello di fare degli esami ematici per confermare questa carenza e sul consiglio del medico integrarne la giusta quantità per colmare questa carenza. Anche in questo caso le è bandita la frase male non fa, giusto? Assolutamente anzi quindi il suggerimento è quello di effettuare esami ematici che possono confermare i bassi livelli o una eventuale sua carenza. La carenza di questo elemento comporta per esempio la riduzione del tono dell'umore problemi ossei un aumento del rischio di infezioni alle vie aeree e anche problemi a livello intestinale per esempio il mortbo di Crohn è stato osservato che è associato a bassi livelli di vitamina D. Ok ma quale potrebbe essere la causa di questa carenza che mi sembra abbastanza diffusa? Allora ci sono due problemi il primo è quanto tempo passiamo al sole specialmente d'inverno sicuramente molto meno rispetto ai nostri antenati perché lavoriamo più indoor cioè negli uffici rispetto all'aria aperta e secondo è con l'età perché la pelle diventa meno brava a sintetizzare la vitamina D quindi si stima ad esempio che dopo i 65 anni se ne generi solo un quarto rispetto a quando avevamo comunque 20 anni. ma Ele ci sono anche casi in cui alcuni soggetti ne hanno troppa di vitamina D? È raro ma comunque è possibile è un suo eccesso nel sangue porta a sovrabbondanza di calcio quindi a rischio di ipercalcemia col pericolo ad esempio di calcoli renali questo è interessante dovrei raccontarla a una mia amica che soffre di calcoli passiamo adesso al potassio e il magnesio forse quelli più conosciuti a memoria mia e più diffusi in farmacia li trovi dappertutto e che prendiamo sempre anche un po' a cuore leggero con la promessa male non fa anzi ci possono fare del bene esatto non è sempre così prima di tutto cerchiamo di capire esattamente qual è il ruolo del potassio quindi il potassio è un minerale che regola tra gli altri un meccanismo fondamentale per la vita che è il battito del cuore e lavora spesso in coppia con un altro minerale il sodio il problema è che oggigiorno assumiamo troppo sodio attraverso l'utilizzo in eccesso ad esempio del sale in cucina e del consumo di prodotti da forno già pronti della grande distribuzione al tempo stesso assumiamo meno potassio rispetto a un tempo quindi tutto questo crea uno squilibrio uno squilibrio di sodio e potassio che è un po' alla base della cosiddetta pressione alta ora l'impegno non deve essere alzare subito il potassio quanti invece prima di tutto iniziare a ridurre il sodio in eccesso e poi aumentare il potassio che possiamo comunque trovarne vegetali come ad esempio i fagioli i pomodori le zucchine le angurie ok nell'immaginario collettivo la vitamina C sta all'arancia come il potassio sta alla banana è un falso mito anche questo? allora le banane in via teorica contengono sì potassio ma perché dico teorica perché se ci fai caso vengono raccolte acerbe quindi maturano in viaggio dunque di potassio ce n'è così una concentrazione non esattamente elevata anzi molto più bassa di quella che pensiamo e di contro sono anche molto ricche di zuccheri ci sono invece alimenti che contengono più potassio come ad esempio il melone l'anguria le albicocche le zucchine e guarda caso sono stagionali cioè sono di quella stagione in cui abbiamo più bisogno di magnesio come ad esempio l'estate certo la banana è presente comunque tutto l'anno d'inverno potremmo comunque utilizzare come fonti di potassio i cavolfiori che ne sono ricchi ma anche i legumi e c'è da dire che rispetto all'estate a meno che non siamo sportivi indoor con un'elevata sudorazione come ad esempio nel tuo caso che giochi a padel o pensa chi fa spinning non abbiamo così tanto bisogno di potassio proprio perché non vi è una perdita quindi non vi è un aumentato fabbisogno dunque quello che troviamo negli alimenti di origine vegetale potrebbe essere più che sufficiente pensa che un mio collega cardiologo dottor Stefano Righetti mi ha indicato che nella sua esperienza sono davvero rarissimi i casi di persone carenti in potassio con esami del sangue alla mano dunque un integratore di potassio e magnesio ha più senso per uno sportivo che suda molto come appunto quando facciamo attività indoor oppure d'estate quando sudiamo comunque ne abbiamo un aumentato fabbisogno ok questo era il potassio parliamo adesso del magnesio per il magnesio le cose in realtà stanno diversamente poiché è un minerale scarsamente presente nel cibo lo possiamo trovare nelle verdure a foglia verde come ad esempio le biete le coste le erbette gli spinaci il magnesio è importante poiché per esempio favorisce l'assorbimento della vitamina D e dunque aiuta davvero a fissare il calcio nelle ossa proprio per questo motivo potrebbe essere molto utile nelle donne ad esempio in perimenopausa dove comunque la salute ossea tende a venire meno per un calo di alcuni ormoni un altro grande beneficio utile a tutti noi è quello sul sonno proprio perché adeguati livelli di magnesio aiutano a dormire meglio proprio perché ha un effetto cosiddetto mio rilassante nel senso che rilassa i nostri muscoli quindi tende a far sì che i nostri muscoli siano meno contratti nei momenti in cui andiamo a dormire non a caso una carenza di magnesio potrebbe anche essere alla base dei crampi muscolari notturni quando noi dormiamo che abbiamo quel crampetto molto fastidioso oppure un altro sintomo da carenza di magnesio è oltre al nervosismo e appunto la muscolatura tesa il tremore alla palpebra è presente quel tremorio fastidiosissimo sai quante volte mi è successo quindi è carenza di magnesio sì perché il magnesio è molto importante per rilasciare la muscolatura che appunto contratta quindi in quel momento quelle muscolature più sottili come quella liscia intorno all'occhio anche intorno alle labbra potrebbe dare proprio questo tipo di fastidio insomma a cui non riusciamo a porre fine bene un'altra cosa scoperta veniamo adesso al mio integratore preferito del momento che ho scoperto solo ed esclusivamente grazie a te cara e le casi gli omega 3 ne parliamo spessissimo in DJ Training Center direi di insomma raccontarci tutto quello che sai ma non possiamo fare una puntata solo sugli omega 3 potremmo potremmo ma dire dai no dai stringiamo innanzitutto dobbiamo dire che si tratta di acidi grassi essenziali ormai abbiamo imparato a conoscere un po' questo termine il termine essenziale che a livello chimico biochimico sta a rappresentare che non solo sono importantissimi ci ricorda un po' questo ma che il corpo non è in grado di produrli e dunque deve necessariamente assumerli col cibo oppure l'integrazione alimentare pensa che secondo l'autorità europea per la sicurezza alimentare l'EFSA suggerisce che gli omega 3 contribuiscono alla normale funzione cardiaca al mantenimento dei livelli normali trigliceridi nel sangue al mantenimento di una normale pressione sanguigna e aiutano inoltre a mantenere in buono stato la funzione cerebrale e contribuiscono anche al mantenimento sempre di un buono stato della capacità visiva ma dove si trovano gli omega 3? gli acidi grassi omega 3 a catena lunga che sono quelli di cui abbiamo necessariamente bisogno per il nostro organismo si trovano principalmente nelle fonti marine in particolare nel pesce soprattutto nei pesci dei mari freddi che sembrano contenerne alte concentrazioni considera che il fabbisogno quotidiano raccomandato di omega 3 è di circa 2 grammi e mezzo al giorno se dovessimo prenderlo appunto dalle fonti marine come il pesce dovremmo consumare ogni giorno 400 grammi di salmone oppure più economiche le sardine quindi 250 grammi oppure un chilo di tonno o insomma se vogliamo essere un po' più di classe 3 chili di aragosta al giorno impegnativo economicamente e non solo economicamente anche come volumi perché appunto si tratta ovviamente di quantitativi importanti che non possiamo assumere ad ogni pasto sia appunto per l'eccesso di cibo per il costo come dicevamo ma anche per ricordati la concentrazione di metalli o comunque sostanze tossiche di cui ormai purtroppo sono inquinati un po' tutti i nostri mari e al tempo stesso anche i pesci infatti sempre l'EFSA quindi l'ente europeo di sicurezza per il cibo suggerisce di non superare i 350 grammi a settimana proprio per evitare un introido eccessivo di sostanze dannose di pesce giusto 350 grammi quindi capisci che i conti insomma non tornano ma quali sono i sintomi da carenza degli omega 3 ce ne potrebbero essere diversi Barry Sears che è un biochimico comunque molto specializzato un grande studioso per quanto riguarda gli acidi grassi omega 3 suggerisce un po' questi sintomi che possiamo toccare tutti i giorni con mano sicuramente l'intontimento a risveglio e qui sorrido perché ce l'abbiamo tutti esatto dai questo vale un po' per tutti esatto la tendenza a sentirsi stressati la voglia costante di carboidrati in particolare i dolci o le bevande appunto ricche in zuccheri la stanchezza persistente la fame poco dopo i pasti soprattutto quando abbiamo voglia di un dolcetto o magari di alimenti comfort e poi le unghie fragili e i capelli sfibrati secondo Barry Sears se si hanno almeno tre di questi sintomi l'invito è quello di rivolgervi al vostro medico di base nutrizionista che con i vostri esami del sangue potrà dirvi la quantità precisa di omega 3 da integrare proprio perché questi sintomi possono evidenziare una carenza di acidi grassi omega 3 oppure un'alternativa anche rivolgervi a una farmacia dove si effettuano ad esempio i test della lipidomica e così potete personalizzare quello che è il vostro fabbisogno di omega 3 ottimo ricordatevi comunque quando scegliete l'integratore di acidi grassi omega 3 da fonti marine fate attenzione mi raccomando alle certificazioni di qualità perché sono fondamentali innanzitutto devono riportare il marchio IFOS che è un ente canadese dell'università di Guelph indipendente da qualsiasi azienda che ci certifica che la quantità di sostanze tossiche è talmente minima che non ci può dare comunque danni alla salute proprio perché non si può eliminare del tutto poi marine trust e anche friend of the sea e anche per ridurre l'eventuale ritorno di gusto che alcuni potrebbero dare alcuni integratori di olio di pesce potrebbero dare infatti alcune persone dicono non li prendo più proprio perché mi dava ritorno di gusto il suggerimento è quello di scegliere le capsule con la certificazione Entericare che è un meccanismo che ci permette proprio di ridurre questo rischio di ritorno di gusto un altro suggerimento è quello di assumerle ad esempio durante un pasto Ale guarda se devo dirti la verità questo è l'unico integratore alimentare che assumo ogni giorno da quando ne ho scoperti i benefici studiandoli lo so e lo so e anch'io non sei per colpa tua bene tutto chiaro prossimo integratore spesso consigliato alle donne è il ferro il ferro è un minerale e mi piace descriverlo un po' come la calamita che assorbe l'ossigeno nel sangue e lo trasporta così attraverso appunto i globuli rossi a tutti i tessuti del nostro organismo quindi tutti i tessuti ricevono ossigeno e sono appunto nutriti un nostro manta della puntata come sai è prima di assumerlo mi raccomando è importante verificare i suoi livelli nel sangue tramite esami ematici questo perché elevati livelli di ferro sono davvero molto pericolosi per il nostro organismo chi potrebbe avere un bisogno in più di ferro sono ad esempio coloro che fanno diete WEG cioè plant based cioè con un basso apporto di cibi di origine animale come appunto le carni proprio perché nella carne il ferro è molto ricco oppure chi consuma tanto ferro facendo molto sport come in particolare negli sport di tipo ciclico come la corsa il nuote il triatro ma anche il crossfit dunque in questi casi fate degli esami ematici con costanza su indicazioni del vostro medico per monitorare i valori e non assumetelo mai mi raccomando perché è molto pericoloso col fai da te con un po' l'idea insomma potrebbe farvi bene perché al contrario sono maggiori i rischi di un suo eccesso per favorire un ottimale assorbimento di ferro è fondamentale assumerlo come vi dicevamo prima insieme alla vitamina C e anche agli acidi grassi omega 3 quindi vedi che tornano sempre loro tutto tornato va bene allora questo era abbastanza facile andiamo avanti con l'integratore tanto caro alle vip di tutto il mondo il collagene il collagene allora devi sapere che il collagene è la proteina più abbondante nel corpo umano perché rappresenta un po' definiamola così l'impalcatura del nostro organismo una parte viene sintetizzata dall'organismo stesso anche se con l'età e con un'alimentazione povera in proteine di origine animale questa sintesi comunque tende a diminuire pensa che la perdita di collagene ad esempio inizia già tra i 18 e 29 anni quando noi ci pensiamo lì all'apice della nostra giovinezza in realtà stiamo già decadendo che notizia tremenda grazie ma ce n'è una peggiore perché dopo i 40 anni il corpo può perdere circa l'1% all'anno bene mi sto sgretolando ma io insieme a te una sua integrazione quindi ha benefici sul benessere della pelle dei tendini e delle articolazioni però bisogna dire alcune cose a riguardo innanzitutto che quando lo assumiamo non va dove vogliamo noi quindi sia chiaro tendenzialmente lo assumiamo lo integriamo per migliorare la qualità della nostra pelle o meglio impalcatura come l'ho definita prima però l'organismo ce l'ha lì ma lui dice io lo mando dove mi serve quindi che ne sai tu che in realtà tu volevi che andasse sulla pelle ma magari è andato sulle articolazioni cui avevi più bisogno perché erano fragili e poi bisogna dire anche che proviene innanzitutto da fonti animali quello davvero efficace per il nostro organismo quindi ad esempio la fonte bovina oppure suina non sempre viene ben assorbito dall'organismo e la massa dell'organismo comunque è grande e quindi come dicevo prima questo elemento deve essere un po' distribuito e pertanto ne va dove dove c'è bisogno non necessariamente dove vogliamo noi infatti un famoso chimico che è stato ospite a Radio DJ mi aveva raccontato che il miglior modo per assumere collagene è mangiare circa uno stinco a settimana è vero io non sono mai riuscito ovviamente a mangiare uno stinco a settimana però era una delle sue indicazioni più delle creme ecco sicuramente è verissimo anche se diciamocelo è poco sostenibile perché anche se dovessero inventare gli snack a base di stinco per noi adulti un po' come fanno per i cani o i gatti insomma purtroppo ripeto non è così non è così sostenibile però è vero perché comunque viene estratto come dicevo prima al collagene proprio da queste fonti di origine bovina oppure suina dunque quando scegliamo di integrarlo preferiamolo un consiglio nella sua forma idrolizzata cioè che è stato reso più digeribile attraverso un meccanismo di tecnologia alimentare che si chiama appunto idrolisi come fate a capire se ha questa forma c'è scritto quindi leggete appunto sulla confezione che riporti la dicitura a forma idrolizzata perché in questa maniera potete non dico assicurarvi ma favorire un miglior assorbimento da parte dell'organismo e appunto non serve solo a costruire l'impalcatura ma anche a frenare la degradazione del collagene nel nostro corpo che avviene ogni seconda della nostra vita quindi dà un segnale al corpo di frenare lì un po' l'invecchiamento ok ma quindi hanno senso le creme con il collagene? allora questo non è il mio campo comunque quello della cosmesi però so benissimo che avendo appunto studiato il collagene è una molecola molto grossa quindi se la poniamo sulla nostra pelle spalmandola come una crema non viene assorbita dalla nostra pelle proprio perché ha un peso molecolare quindi in altre parole è molto grossa ed è difficile che riesca a passare attraverso la pelle niente quanti soldi dovevo solo mangiare tanti stinchi allora questa puntata poteva ipoteticamente durare delle ore però abbiamo dovuto fare una scelta abbiamo lasciato fuori i fermenti lattici l'ashwaganda è giusto? ashwaganda l'alga spirulina insomma un sacco di cose di cui non si è riuscita a parlare ma se possiamo dire che se chi sta ascoltando il podcast ha voglia di suggerirci magari qualche argomento o se vuole approfondire anche il tema fermenti lattici può scriverci in DM sui nostri profili Instagram e le casi e l'alga epatitucci e il mio però forse scriverei più ai le casi che è l'esperta arrivate qui vogliamo trarre le conclusioni e ricordare tre punti fondamentali della puntata primo punto prima di integrare alcuni elementi primi su tutti il ferro e la vitamina D come vi abbiamo raccontato il suggerimento è quello di effettuare degli esami ematici insieme al proprio medico o nutrizionista identificare il vero dosaggio personalizzato in alcuni casi assumere integratori alimentari a sentimento potrebbe anche indurre rischi per la salute secondo punto dovremmo considerare gli integratori come un'opportunità per soddisfare in modo più efficiente il fabbisogno di alcuni nutrienti che talvolta ci mancano alleggeriamo però un pelo Ale perché sennò qui diventa complicata la cosa quindi se giochi a paddle come nel tuo caso oppure fai un corso di step di spinning puoi anche prendere da solo un integratore di sali minerali anzi oppure anche di carboidrati che ti può dare energia durante lo sforzo senza ovviamente chiamare necessariamente il medico o disturbare il nutrizionista per intenderci terzo punto prima di affidarci agli integratori alimentari impariamo però a prevenire e a colmare le carenze attraverso un'alimentazione bilanciata dunque impariamo a nutrirci questa strategia può sembrare la più faticosa ma è anche la più duratura è sicuramente la più economica ottimo siamo arrivati alla fine ma sento Ele che manca qualcosa non abbiamo nominato l'acqua quindi l'acqua noi lo sai che dobbiamo chiudere parlando di acqua dobbiamo suggerire di bere acqua possiamo quindi dire che l'acqua è un integratore naturale di sali minerali assolutamente sì poi dipende ovviamente dal tipo di acqua e quindi il consiglio è quello di idratarvi mantenervi idratati e bere la quantità giusta di acqua per il vostro fabbisogno quotidiano ottimo Ele buono sapersi buono sapersi è un podcast scritto da Elena Casiraghi e Alessandra Patitucci con Viola Frifa riprese e montaggio Maurizio Rossato supervisione tecnica Gabriele Rosi responsabile della produzione Dennis Tucci una produzione One Podcast con Viola Frifa con Viola Frifa con Viola Frifa con Viola Frifa Grazie.